quando li hai raccolti nono prima prima ma che c'è anche la nona vuoi dire qualcosa non al video una bella frittata la salsa le chiede a fare il sugo per la pasta a per la pasta ah ma qua sotto ci sono tutti i pomodori eh si pomodorini e questo faccio un tipo di uova melanzane zucchine frittelline queste quali frittelline le zucchine con le fiori e faccio delle frittelline il basilico il basilico per la salsa ben dai adesso i nonni devono andare via tornano a casa bussolengo e il nonno ha fame cos'è che immagino stasera polentina e coniglio e coniglio ho capito ma c'è già anche tutto cotto si è ovvio ben solo polentina stasera stetopatia sì sì sono io qua allora la settimana prossima nono devo dare una notizia settimana prossima esce una cosa te lo sai cosa esce la settimana prossima no prova a indovinare cosa dovrei dire non so se te l'avevo detto te lo sai bravo come una nuova canzone esce ma scherzi no davvero un'altra ancora beh sono due cioè è uscita la prima che era la canzone sul trattore e quella nuova che però non si dice niente per adesso ho capito ma te l'hai sentita quell'altra no mi è solo finita a te la sai no no allora dai la prossima allora dopo domani o un altro giorno diamo qualche aggiornamento in più va bene dai ragazzi ci vediamo domani sempre sperando appunto di riuscire a fare l'aggiornamento ma adesso cerco di riprendere un pochettino buona serata a tutti